Sport e solidarietà, le parole chiave del torneo di calcio a 5 Amico Soccer che si è concluso pochi giorni fa a Ostia. 13 squadre infatti si sono sfidate sul campo del centro sportivo di Via dei Promontori, con il duplice obiettivo di fare attività fisica e aiutare chi più ne ha bisogno. Il torneo infatti è stato dedicato al sostegno dell'associazione italiana Sclerosi Multipla. Domenica si è svolta la premiazione del torneo presso lo stabilimento Plinius di Ostia, alla presenza di tutti gli atleti coinvolti e di Nicole Ciaralli, rappresentante dell'Aism. Per l'occasione gli organizzatori di Amico Soccer, Fabrizio Formato, di Mr. Jeff Entertainment e l'associazione Events for Everyone hanno realizzato una cena di beneficenze, grazie alla quale sono stati raccolti ulteriori fondi donati totalmente all'Aism. Per la cronaca, prima classificata la squadra Limousine, per la Champions League la squadra Jam Fitness e per l'Europa League la squadra Fusion Caffè. E poi ancora sono stati consegnati il premio Fair Play alla squadra Vecchia Guardia e il premio Terzo Tempo andato alla squadra Events. Non solo, durante la serata poi sono stati consegnati anche tanti altri premi e riconoscimenti, tra cui quello del miglior giocatore a Bruno Negri, il miglior arbitro ad Andrea Lattuada, il miglior portiere a Marco Donnini, il capocannoniere Gianmarco Bacci, il miglior capitano a Giovanni Guidi e non è mancato il premio Simpatia andato a Vince della squadra Events. Ad aglietare la serata poi, a bordo piscina, la musica dal vivo della Lux Band Trio, che ha creato la giusta atmosfera mettendo le giuste note sull'amicizia e la solidarietà. Il torneo Amigo Soccer tornerà con la seconda edizione 2015-2016. Le iscrizioni sono già aperte e per chi fosse interessato a partecipare può chiamare il 347-6866-350. Dunque, buona solidarietà a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!